Sì, c'ho fatta anch'io eh! Ma non era quello! Fai Ferri! Guarda come nota il girino, guarda come nota il girino! È il primo! Nota bene o mai? Bellino, vedi dove va a prendere l'acqua? Cazzo, non c'è passaggio? Non c'è! È buono eh! È buono eh! È buono eh! Per la sessantaseiesima serie, i 100 metri stile libero sono ai giochi di partenza Alla corsia 2, Saci Lombo Marco Gennasio Spilimbergo Alla corsia 3, Serrani Valerio Sì! Polistagli Simone, Gennasio Spilimbergo Vai, Silvio! Sei, Boroni Giacomo, Marinantes Legnetti Sì!